Musica Bentornato Guter, bentornata Dopo alcune spiegazioni del sistema operativo Windows 8 andiamo ora a vedere quali sono le fasi che ti porteranno ad installare il sistema operativo sul tuo computer Subito volevo darti una nota di allerta Prima di procedere a qualsiasi tipo di installazione ricordati di eseguire il backup dei driver e dei dati importanti se magari già non li hai memorizzati in qualche periferica o partizione dedicata Windows 8 lo puoi ottenere o acquistando un nuovo PC o notebook con sistema operativo già preinstallato oppure puoi eseguire un aggiornamento sul tuo vecchio sistema operativo o infine installare il sistema operativo da un supporto esterno Se hai già installato un sistema operativo Microsoft potrai installare un aggiornamento al nuovo Windows La Microsoft scrive che ha reso questo processo molto semplice il quanto tutto è gestito da un assistente virtuale che non si configura con una rappresentazione animata di una persona ma una procedura guidata che ti supporterà nelle fasi di installazione e la quale sarà pressoché automatizzata I tuoi interventi infatti saranno pochi e potrai così aggiornare il sistema operativo senza particolari difficoltà Per avviare tale processo dovrai scaricare gratuitamente appunto l'assistente Sarà diverso a seconda del sistema operativo che già utilizzerai Se stai utilizzando ancora Windows XP o Vista potrai controllare scaricando l'assistente se il tuo PC supporta l'aggiornamento a Windows 8 Mentre se stai impiegando Windows 7 o già utilizzi Windows 8 potrai addirittura passare all'ultimissima versione aggiornata di Windows che sarà la 8.1 Non ti sarà anche possibile aggiornare seguendo la procedura guidata una versione a 32 bit verso una a 64 bit Dalla pagina delle domande potrai ottenere informazioni utili e scaricare quindi il software che avvierà la procedura di aggiornamento Dopo averlo scaricato e averlo avviato esso analizzerà automaticamente il PC analizzando dispositivi e software installato Dopo aver verificato la compatibilità e eventualmente notificato presenze di incompatibilità avrai il resoconto tramite una schermata nella quale potrai anche visionare i dettagli di compatibilità Superata questa fase ti verranno presentate altre finestre che ti porteranno all'acquisto e quindi in seguito ad ottenere il product key via email scaricare ed installare l'aggiornamento in assoluta autonomia e affidabilità Da prima potrai decidere se mantenere i tuoi file personali oppure eseguire un'installazione completamente pulita Successivamente potrai decidere quale versione di Windows 8 acquistare e compilare alcuni campi per la fatturazione ed eventualmente spedizione se acquisterai anche il supporto DVD Qui è rappresentato uno screenshot dei dati che dovrai inserire per l'acquisto La durata di tutto il processo non è stimabile a priori in quanto dipende dalla disponibilità della tua banda internet e dalle risorse del tuo computer Al termine comunque potrai avviare l'aggiornamento del sistema operativo Come detto in base alla versione che stai utilizzando potresti avere anche la possibilità di scegliere se mantenere i tuoi dati dopo l'installazione sovrascrivendo il sistema operativo oppure rimuovere tutto il precedente sistema operativo formattando il disco rigido In quest'ultimo caso la procedura sarà totalmente pulita come se installassi il tuo sistema operativo manualmente da un supporto Altro modo di installare Windows 8 su un PC è naturalmente eseguire l'installazione pulita tramite una versione adeguata impiegando un supporto ottico o tramite una pendrive che includa i file di installazione quindi in questo caso non seguirai l'assistente di Windows La procedura di installazione si avvicina molto a quanto già mostrato per l'installazione di Windows 7 ma naturalmente ci saranno alcune differenze Per prima cosa devi far avviare il computer da disco o da periferica USB se i file di installazione sono su quest'ultima All'accensione puoi premere un determinato tasto che ti permette di selezionare da quale dispositivo avviare il PC Il tasto varia in base al modello del computer di solito è scritto nella prima schermata subito dopo l'accezione e prima della schermata di presentazione dei dati del BIOS In alternativa potrai entrare naturalmente nel BIOS come spiegato nelle lezioni dedicate cambiare l'ordine del menu di avvio Fatto ciò riavviando il computer in pratica avrai la presenza di questa schermata che ti inviterà a premere un tasto per avviare da DVD se naturalmente utilizzi un supporto ottico altrimenti partirà la procedura di calicamento dei file per avviare l'installazione se utilizzi una periferica USB bene nella prossima lezione terminerò la descrizione dell'installazione di Windows 8 in maniera pulita rimanderò invece la parte pratica relativa all'assistente di Windows a quando tratteremo l'installazione di Windows 8.1 partendo da una precedente versione di Windows 7 bene come sempre un forte saluto ciao a presto da Gallo e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.